Dopo le richieste di pagamento per prestazioni sanitarie effettuate tra il 2014 e il 2016 arrivate a migliaia di pazienti biellesi, ora la Direzione Generale della SL di Biella avvia un'indagine interna. C'è stato un primo intervento urgente, finalizzato a tutelare i cittadini coinvolti, la SL ha formalmente sospeso la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento consentirà di adempiere ai necessari accertamenti che riguardano sia la posizione degli utenti sia la ricostruzione delle cause e l'individuazione delle eventuali responsabilità all'interno dell'azienda. L'attività di riscossione per gli anni 2014, 2015 e 2016 è stata avviata d'ufficio come normalmente avviene, senza il coinvolgimento della direzione, ma l'azienda in una nota fa sapere che la Direzione Generale della SL non ha ricevuto dalle strutture competenti preliminare comunicazione circa l'invio massivo di questi avvisi di pagamento che hanno arrecato a prensione nei cittadini ed è intervenuta fin da subito in modo da contenere e prevenire le possibili ripercussioni. È stata comunque formalmente avviata un'indagine interna che durerà alcuni giorni e che avrà lo scopo di fare chiarezza sull'attività di riscossione messa in atto.